Alberto Regazzoni, prima di tutto benvenuto al Chiasso Grazie Con che motivazioni cominci questa avventura? Sicuramente con tante motivazioni, vengo da un periodo non facile, ho tanta voglia di rivincita di cercare di dare una mano al Chiasso per uscire da una situazione non facile di basta classifica e cerchiamo tutti assieme di fare un ottimo secondo turno del campionato e cercare di portare il Chiasso in posizioni migliori dove penso che merita Ho stato letto che ti conosco di Gennao, di Procitotti, invece resta un gruppo, hai già conosciuto il suo gioco? Sì, conosco comunque alcuni giocatori erano come a Sion, altri conosco comunque che siamo cresciuti assieme o abbiamo giocato spesse volte contro quindi quello non c'è nessun problema poi ne ho sentito parlare benissimo del gruppo del Chiasso, un gruppo molto unito quindi penso che non c'è problema per l'integrazione Questo mini ritiro di Cesena può essere importante per te? Sì, importantissimo, infatti abbiamo tutti cercato di finire questa trattativa nei giorni scorsi per poter partire a Cesena, così potrò stare e vivere il gruppo per due o tre giorni tutti assieme e penso che è una cosa importante Gianluca diceva che bisogna vedere a livello tattico come utilizzarti le tue caratteristiche principali e dove pensi di poter essere utile? Ma sai, io adesso vediamo, non è stato in me la tua disposizione del mister e della squadra e penso che comunque ho sempre giocato o in fascia o seconda punta dipende, penso che mi posso adattare a quelle due o tre posizioni e non c'è nessun problema Grazie e in buca lupo Crepi lupo, grazie